Il Liger stasera è finito, si rimane a casa, ci vediamo lunedì, grazie. Quello che di fatto è questo personaggio è un individuo alla ricerca della verità, di una verità dentro di sé e in generale nell'incontro con una specifica persona. C'è una frase molto bella di una serie tv detta da un attore eccezionale che dice, però è pericolosa questa frase che dice, ognuno di noi è un assassino, bisogna solo trovare la persona giusta. Ma del resto la felicità dell'uomo ha dentro di sé la crudeltà su qualcun altro, non esiste felicità di se stessi senza l'infelicità del prossimo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.